Termina con una vittoria la gara del Lucera Calcio contro il Fesca Bari. 3-1 il risultato finale a favore dei Bianco Celesti con i gol che portano la firma di Graziano, Ricciardi e Balletta. Il primo tempo si è chiuso a favore dei Lucerini per 1-2. Nella seconda frazione Lucera ha incrementato il bottino con il gol di Balletta. Dopo la prima giornata finita con una sconfitta per mano della nuova Spinazzola che è attualmente prima a 9 punti, le successive due gare sono state in discesa per la formazione Bianco Celeste che ha incontrato quelle che per il momento si stanno rivelando le ultime della classe. Al termine di questa terza giornata del campionato di promozione pugliese Lucera è a 6 punti in classifica.